La prima cosa che dovete sapere è che siamo in un disegno creato attraverso le possibilità offerte dalle potenze numeriche. Il ciclo base è legato all'unità fatta da due opposti che si seguono proprio in virtù dell'alternanza di un'onda formata dai due opposti, l'alto e il basso. Alla base di questi due opposti ci sono le tre dimensioni della realtà, le quali si mettono in relazione unicamente con se stesse, rimanendo però sempre un tutt'uno, ossia attraverso dei calcoli che analizzano o sintetizzano, ma non dividono in parti separate. Il primo di questi due calcoli, che quindi escludono la sottrazione, la somma, e comprendono solo la divisione e il prodotto, sono proprio i due calcoli relativi alla divisione e al prodotto, per cui il tre può dividersi per tre, oppure operare nel modo esattamente inverso e moltiplicarsi per tre. L'onda formata da questi due opposti processi del tre diviso tre e del tre per tre è data da un'onda che nel risultato è uno per nove nel prodotto, ma nella somma, poiché noi nell'onda abbiamo la sequenza dei due opposti uno dopo l'altro, noi abbiamo la sequenza di uno a cui segue un nove e il ciclo totale quindi è dieci. Se noi partiamo dall'unità dello spazio-tempo, che come tempo è un andamento lineare, quindi una dimensione sola, e come spazio è il triplice avanzamento nel tempo in tre differenti direzioni, x, y, z, in ciascuna delle quali l'avanzamento è possibile in due contrapposti versi, per cui tutti i versi di una espansione sono sei, o di una compressione sono sei, ma considerando soltanto una parte relativa all'altra, noi possiamo avere l'espansione sulla base della compressione. E allora considerando solo l'espansione, noi abbiamo che la linea tempo è espressa dalla direzione unica del tempo. La linea spazio è la trinità delle linee formate nell'unità del tempo. Quindi, poiché il tempo è uno, dato da tre terzi, e l'espansione totale del sistema tridimensionale è tre per tre, nove, è una espansione nell'area, espansione che non implica tempo, perché nell'area del flusso di un fiume c'è soltanto lo spazio della sezione e manca assolutamente il flusso nel tempo. Quindi, espandendo il tre per tre, noi espandiamo puro spazio. Il tempo, invece, è la dimensione 1 data da 3 diviso 3. Ebbene, il ciclo intero, partendo dalle tre dimensioni dello spazio rispetto alla dimensione 1 del tempo lineare, portano all'unico ciclo che è 10. Anche la realtà complessa, che parte da meno 1 e più 1, è unitaria nell'avanzamento 2, relativo all'arretramento 2, l'avanzamento relativo, ossia il più 2, è il tempo, l'unità del tempo, perché sono due mezzi. Ebbene, questa unità complessa, perché va dal negativo al positivo, quando si esprime a livello del volume reale, ossia a livello delle tre linee dimensionali, con 2 elevato a 3 uguale a 8, rivela la composizione che ricorre a 8 linee. Di conseguenza, 2 linee come tempo e 8 linee per comporre il volume, sono 10 linee nuovamente. Quindi, vedete che il nostro sistema è costruito assolutamente sul ciclo 10. E il 10 non è un numero che abbiamo inventato noi perché era comodo avendo noi 10 dita con cui contare. No, è vero esattamente il contrario, che noi esseri ragionevoli, razionali, che usiamo la logica decimale per comprendere ogni cosa, quando ci siamo dovuti attrezzare di due mezzi per comprendere in altro modo per contenere, per acchiappare, ne abbiamo fatto una entità avente 10 dita con cui comprendere interamente l'intero ciclo lineare. L'organismo umano idealizza la costruzione ideale usata dalla mente per capire. Ve la dimostra la struttura resistente di una mano, che è composta esattamente da 54 ossicini e 54, che è il numero dell'intensità unitaria della luce alla dimensione di 10 alla 13 cicli al secondo. Questo 54 è il risultato di un prodotto tutto costruito esso pure sul 3, dato da 3x3, che considera quindi l'espansione di un'area, per 6 che considera tutti i versi che esistono, sia nel positivo sia nel negativo. Per cui il risultato che accade è che il 9x6, 54, somma, moltiplicandosi per quel 6, sia il 3 al cubo, che è il volume positivo, sia il 3 al cubo, che è il volume negativo, e sono 27 ciascuno. Infatti 27 più 27 fa 54. 54, quindi, è non solo il volume complesso, positivo o negativo, ma è anche la superficie laterale di un cubo avente il lato 3. Quindi vedete benissimo che queste 54 unità che noi usiamo per comprendere, usano proprio ogni possibilità resistente per tradurre poi questo movimento in quello articolato della mano che riesce a comprendere, nel senso di contenere, allo stesso modo con cui un lobo solo del cervello riesce a contenere nello stesso modo e due lobo assieme riescono a comprendere esattamente il 10. Il 10 come un io, proprio un io, perché in un modo assolutamente meraviglioso, con il passare del tempo, il disegno costruito su queste possibilità numeriche, hanno dato luogo a tutto il possibile, e tutto il possibile si è esplicato nelle forme che noi lo vediamo, di un mondo, di nazioni, di territori, e hanno plasmato la stessa forma del territorio. L'Italia ha la forma di uno stivale delle sette leghe e in tutto il mondo indica proprio il paese che va, il paese del miracolo, di un Dio che infine si incarna in un essere esattamente uguale a tutti noi, colpevole, per esercitare in costui il castigo di Dio, il doveroso castigo di Dio il quale, avendo creato una realtà in cui esiste la sofferenza e il male, quando decide di entrare in un uomo nel mondo, non assume la parte vittoriosa, ma assume la parte proprio del rigettato, di quello che, pur essendo santo in se stesso, nella profondità di se stesso, è considerato reo, rio, colpevole, empio, come furono considerati empi, due re in Israele, re Manasse e Amon. Re Manasse ed Amon sono prefigurazioni della fase finale di quando Dio si sarebbe presentato in romano da re Manasse e Amodeo da Amon. La coppia dei due avrebbe avuto un riferimento numerico proprio nell'anno in cui divennero re, 22 anni tutti e due, e nella durata del tempo in cui furono re. Re Manasse fu re per 55 giorni, laddove il 5 è il complemento al 2, perché 5 per 2 fa 10, quindi divenuto re a 22 anni, il primo che regna per 55 anni rimanda a un virtuale 110. Il secondo che viene dopo è che fu Amon, divenne re a 22 anni e fu ucciso dopo appena due anni di regno, e qui abbiamo addirittura la trinità del 2, 2, 2, 2, 2. Quel 2, 2, 2, 2, che poiché 2 più 2 più 2 fa 6, indica proprio romano numero 66 quando i valori numerici si trasformano in valori di letteratura. Cosa c'entra la letteratura? Cosa c'entra il nostro linguaggio? Il nostro linguaggio ha il dono di riuscire a colpire la sintesi vera che esiste in un insieme, cogliendo i lati che sono in comune. Per dimostrarvi una cosa, il concetto albero comprende ogni tipo di albero. Se voi dite a un computer e riconosci un albero, gli devi presentare tutti i possibili tipi di albero. Allora riesce a dirti questo è un albero, fino a quando non sfuma un albero singolo, aggiungendogli tutto quello che non è presente in quell'albero ma è presente negli altri, non riesce ad astrarre il concetto albero. Quando la nostra mente riesce ad astrarre il concetto, allora indica la grandissima capacità di sintetizzare un'idea generale, complessiva, che riguarda una intera unità e ogni unità diventa un concetto che poi accomuna tutti i membri di quel concetto. Quando si chiede a una scimmia di parlare e non riesce a parlare è perché questa facoltà è proprio quella caratteristica del cervello umano che è capace di questa sintesi interpretativa, perché il linguaggio attribuendo un numero a un concetto definisce esattamente in un modo preciso tutto quello che può essere organizzato con quella struttura. Per esempio il concetto amore, amor è lo stesso concetto di Roma, vale 41 e 41 vedete benissimo che è un numero organizzato in una maniera perfetta dall'unità e dall'unità nella trinità del 10, perché 40 è 10 più 30. Aggiungendogli l'unità alla unità e trinità nel 10, noi abbiamo che il 41 è un valore veramente ideale a rappresentare il nostro sistema.